Come fare a resistere e andare avanti proprio in questi momenti, in questi momenti di difficoltà, di crisi, perché per qualcuno le notizie di oggi possono essere devastanti, per qualcuno molto difficili da affrontare, per qualcuno può essere un'ulteriore fonte di malumore, sicuramente di preoccupazione per tutti e trovo assurdo questo problema, ok scuole chiuse e insomma alla fine queste notizie, insomma quello che sta succedendo comunque in un modo o nell'altro penalizza tutti, pensa soltanto al mondo del lavoro, anche se magari chi è connesso magari fa un lavoro da dipendente, non so quanti di voi svolgono un lavoro da dipendente, quindi sono stipendiati da un'azienda, da un'impresa, da un ente pubblico, magari qualcuno potrebbe dire vabbè io ho comunque lo stipendio in questo momento, magari lavoro da casa, anche vero che se poi l'azienda non vende più, il mercato si ferma, le difficoltà non ci sono solo per i libri professionisti, per gli artisti, perché non solo per i commercianti, insomma ci sono anche per chi fa un lavoro da dipendente, pensa a me che faccio il libro professionista, faccio il formatore e in questo mese anche in modo preventivo, quindi anche gli eventi di aprile già tutte le aziende insomma li hanno rimandati se non annullati, quindi e io guadagno cioè il mio pane viene dal fatto che dal mio lavoro, quindi dai corsi che faccio, se le manifestazioni i corsi sono obbligatoriamente sospesi non guadagno più, quindi insomma non è facile, non è facile, quindi come resistere senza crollare proprio adesso e come andare avanti. A qualcuno interessa questo argomento, se ti interessa condividi questo video perché condividerò con te tre cose che sto facendo in questo momento di difficoltà anche per me, perché insomma ho anche aperto, sono ancora aperte le iscrizioni al mio corso d'intelligenza positiva che manterremo aperte perché insomma è il 24 aprile, si spera che la situazione fino al 24 aprile si sistemerà, ce lo auguriamo tutti e quindi finché non ci sono delle ordinanze, degli ordini o insomma degli obblighi a non svolgere il corso al 24 aprile a Rimini finché non c'è un'ordinanza noi continuiamo andiamo avanti e non molliamo e poi se ci sarà un'ordinanza nell'eventualità ovviamente sia per legge, perché è ovvio che per legge che così, sia per il buon senso che a volte si dimentica, comunque il corso o verrà posticipato oppure verrà rimborsato ovviamente come naturale che sia, comunque si va avanti. Allora come si resiste appunto in questo momento senza crollare, come magari potrebbe accadere a qualcuno, come si va avanti? Vediamo se a qualcuno interessa questo argomento e anche perché che cosa facciamo di diverso? Cioè cosa facciamo? Continuiamo a lamentarci? Continuiamo a protestare? Leggevo prima una cosa una follia, un'ingiustizia? Ok, cosa facciamo quindi? Continuiamo a protestare, a lamentarci, a parlare del problema, a guardare 4-5 telegiornali al giorno o a vagare sui social nella ricerca di qualche notizia per distrarci? Cioè noi siamo liberissimi e purtroppo per fortuna abbiamo la libertà, tante volte ce ne dimentichiamo, noi abbiamo la libertà di spostare la nostra attenzione su quello che vogliamo. Quindi è vero che siamo influenzati dalle notizie, è anche vero che tu il telecomando, cioè c'è il telecomando, il televisore puoi spegne, il telefonino puoi spegnerlo, ok? Quindi noi abbiamo, siamo liberissimi di continuare a lamentarci, a preoccuparci, ad agitarci ma più ci lamentiamo, più ci sentiamo meglio o ci sentiamo peggio? Cioè secondo voi, alla luce di quello che stiamo vivendo in questi giorni, più ci lamentiamo, più parliamo del problema, più ci focalizziamo sul problema, sulla difficoltà, più ci sentiamo meglio o ci sentiamo peggio? Purtroppo ci sentiamo peggio e più stiamo in questo stato di preoccupazione, di tensione, di rancore o di agitazione, di paura, più le nostre difese immunitarie che ci servono proprio per affrontare il virus, si indeboliscono o si rinforzano? Si indeboliscono, abbiamo visto nelle dirette passate, c'è anche il discorso, non so se ve lo ricordate, dei batteri del nostro intestino, del microbiota, quindi che le nostre scelte alimentari, le nostre abitudini di vita, l'esercizio fisico, il fatto di, leggo che qualcuno che scrive, ah bisogna, quindi fa allarmismi, bisogna starsene chiusi in casa e non avere contatti sociali, ok, ma io non ho letto da nessuna parte, nessuna dichiarazione, nessuna documentazione dell'OMS che c'è scritto che bisogna starsene, non si può andare in un luogo aperto, magari in un parco, magari in un giardino, magari in un bosco a respirare ossigeno, alla luce solare che è quella che ti fa rinforzare il sistema immunitario e anche i batteri dell'intestino che regolarizzano nello stesso sistema immunitario, quindi sostanzialmente a creare anche allarmismi e starsene chiusi in casa, a respirare sempre la stessa aria, quindi la diride carbonica è proprio quello che favorisce l'indebolimento del sistema immunitario, perché se non vedi la luce solare te ne stai sempre chiusi in casa e fra l'altro se non hai interazioni sociali con nessuno fuori di casa ti senti isolato e più ti senti isolato più ti senti forte o sfigato, più ti senti solo più ti senti sfigato e soprattutto cosa fai tutto il tempo? Guardi le notizie, ti preoccupi ancora di più, quindi sicuramente noi possiamo continuare a fare così ma non ci porta nessun risultato. Cos'è che possiamo fare? Qual è la differenza che fa la differenza in questo momento? Che è la cosa che condivido con te in questo video e le tre cose che sto facendo io in questo momento e che condivido con te. La differenza che fa la differenza è trovare soluzioni e non diventare bravi a parlare del problema, è trovare le soluzioni proprio nelle difficoltà. Quindi ti dicono che le scuole sono chiuse e quindi hai i bambini a casa. Se sei a casa per lavoro perché l'azienda non vuole che tu vai a lavorare in azienda e sei a casa, trova piuttosto che lamentarti di questa situazione, trova una soluzione, trova la soluzione, ad esempio cerca il lato positivo. La differenza che fa oggi, la differenza proprio in questo momento, è trovare il lato positivo che non vuol dire non vedere il lato negativo ma vuol dire piuttosto che rimanere fermo al lato negativo che non ti porta a nulla, trovare un lato positivo perché nel momento in cui trovi un lato positivo magari trovi anche la soluzione e magari trovando quel lato positivo ti senti meglio per affrontare anche il lato negativo. Questo è il senso di usare l'intelligenza in positivo perché se c'hai figli a casa ok non è sempre in tutti i casi ma è un'opportunità anche magari di trascorrere del tempo, magari pranzare, mangiare con più calma con loro, magari conoscere i tuoi figli perché ci sono persone che i figli non li conoscono e si lamentano, poi quando sono anziani si pentono di non averne anche conosciuto i propri figli, di non averci parlato, di avere difficoltà a parlare con i tuoi figli, prenditi un libro che insegna queste cose, fai a fare un corso di comunicazione, usa questo tempo di cui ti lamenti di non averlo per imparare qualcosa di buono. Quindi le tre cose che sto facendo in questo momento di difficoltà lavorativa perché ovviamente io faccio il formatore nelle aziende e le aziende sono obbligate a non fare eventi, non fare corsi. Quindi le tre cose che ho fatto, che sto facendo in questo momento, la prima cosa è quella di avere più amor proprio, più cura, che non è egoismo, ma avere più attenzione alla mia salute perché l'unica cosa che posso fare è rinforzare il mio sistema immunitario. Quindi come scrivo nel mio libro, l'amor proprio non è la meta ma è lo strumento. Quindi in questo momento cogli l'occasione per avere più attenzione verso te stessa, te stesso, per fare quelle cose che non sei riuscita a fare magari fino adesso e provaci adesso, cogli quest'occasione, ritagliati un po' di tempo, inizia dalla più piccola cosa che puoi fare e quindi comincia anche a imitare chi già lo fa, prendi spunto da chi ci riesce per assorbire le sue abitudini, i suoi valori. Questa è la prima A per esempio delle 4 A che spiego nel mio libro. Quindi comincia ad avere attenzione verso te stesso perché nel momento in cui tu hai cura di qualcuno, se tu hai cura di qualcuno, di quella persona, quindi hai attenzione verso quella persona, quella persona secondo te come si sente? Più debole o più forte? Si sente più forte? Si sente più felice? Quindi lo stesso meccanismo vale anche per noi. Usa questo tempo per potenziarti, non conosci delle cose sulla tua salute, sul funzionamento delle tue emozioni, su come gestire alcune situazioni, su come crearti un'abitudine, imparalo, imparalo, usa questo tempo per imparare cose nuove. La seconda cosa che ho fatto infatti è migliorarmi, studiare, ogni giorno imparare qualcosa di nuovo, sfrutto questo tempo che non sto lavorando, che non sto viaggiando, per imparare qualcosa di nuovo, per potenziarmi, per far sì che quando finisce tutto questo, perché finirà, perché è sempre finito nella nostra storia, se tu guardi, usa l'intelligenza in positivo e guardi alla storia delle epidemie, pandemie, malattie, influenza, la SARS, quello che c'è stato in passato, alla fine finisce questa roba qua, anche perché ci sarà sicuramente una casa farmaceutica che sta tenendo tutto questo tempo l'arma, la soluzione in serbo, in modo tale da poi diffondere l'antivirus. Quindi ci sarà sicuramente, verrà fuori tra poco, speriamo prima possibile, ma ci sarà una soluzione. Quindi quando finisce questa soluzione, la differenza che fa la differenza è che tu non sei pari agli altri, ma sei un gradino più avanti degli altri. Questo è il momento per crescere, quando tutti magari sono fermi a lamentarsi, a indebolirsi, a indebolirsi, perché se tu lasci fermo il cervello ti indebolisci, un muscolo se non lo usi più si indebolisce, se tu non vai a fare ginnastica per una settimana, quel muscolo per cui hai lavorato magari tre mesi si indebolisce, si assottiglia, quello che non viene usato nel nostro corpo, siccome il nostro corpo deve fare economia, deve essere funzionale all'utilizzo dell'energia, quello che non viene utilizzato viene eliminato. Quindi se tu non utilizzi un muscolo, tipo il cervello, tipo l'atteggiamento positivo, tipo la capacità di trovare soluzioni, di trovare un lato positivo, laddove tutti sono bravissimi a trovare i lati negativi, questo muscolo se non lo alleni e alleni l'altro, quello di trovare le cose negative del lamento, tu allenerai una cosa che non ti porta ai risultati. Mentre se lo alleni proprio adesso, in questo momento, che magari hai un briciolo di tempo in più, utilizzalo in questo modo. Quindi la seconda cosa che ho fatto è studiare. Sto studiando delle cose sulla salute, delle cose anche nuove che porterò nel corso di intelligenza positiva, tipo ad esempio come l'argomento della difesa verbale, cioè come difendersi non solo fisicamente, ci sarà un ospite speciale che ci insegnerà qualche tecnica di autodifesa, perché proprio in questi momenti, quando si sentono tutti questi episodi di riviolenza, di razzismo, di egoismo, avere anche la competenza, che non è solo la conoscenza, perché la conoscenza a volte non ti aiuta se poi quella cosa non la sai mettere in pratica, ma saper fare, quindi avere anche la competenza di sapersi difendere, senza ammazzare nessuno, ma sapersi difendere da un attacco sia fisico che verbale, è una cosa nuova che sto studiando, che sto già sperimentando e che inserirò come novità nel corso di intelligenza positiva. Quindi questa è la seconda cosa. Terza cosa che è fondamentale, perché non è vero che l'isolamento sociale ti aiuta a superare questa situazione, è falsissimo e tutti i libri di neuroscienze, di Pnei, che parlano del sistema immunitario, di come funzionano le emozioni, come impattano sul nostro corpo, ti dicono che è il contrario, che è proprio la connessione sociale, l'amore che rinforza il tuo sistema immunitario. Quindi è vero che non bisogna andare nei luoghi pubblici ammassati con tante persone, ok? Questa è l'ordinanza del ministero, si rispetta, va benissimo, ma in casa tua l'amore, la connessione con le persone che vivono con te, quello è sacrosanto, quella è la risorsa. Quindi la terza cosa che ho fatto è dare più tempo, più attenzione alle persone che vivono con me. Anche perché anch'io, spesso preso dalle tante urgenze, dalle emergenze, dal lavoro, dalle incombenze, magari dedico poco tempo. Ma intanto sfrutto, utilizzo questo tempo, questo periodo, per dare più amore alle persone che stanno con me e anche agli altri. Una delle cose che ho fatto in questo periodo è ad esempio regalare dei contenuti, cercare di creare delle dirette, dei video come questi, dove cerco di dare degli spunti, delle tecniche, delle cose che sostanzialmente io ho studiato, che ho applicato, che insegno nei corsi e mi pagano migliaia di euro per insegnare queste cose. Quindi ho cercato di dare degli spunti, aiutare le altre persone. Ho messo a disposizione cinque lezioni, quattro lezioni del mio video corso Felicemente Stressate. Adesso se ti interessa metto il link qui sotto così puoi usufruirne anche tu. Ho scritto ogni giorno alle persone della mia lista. Il colmo è che quante volte, secondo te, leggi, guardi il tuo telefonino? Quante volte, secondo voi? Secondo voi, quante volte guardiamo questo telefonino? Magari anche non per lavoro oppure per lavoro. Sicuramente, ditemi voi se sbaglio, più di una volta sicuramente tutti, giusto? Almeno una volta lo guardiamo e secondo me più di una volta. Quindi più di una volta, già il fatto che lo accendi e poi lo spegni sono già due volte. Quindi due volte al giorno e la media dice che sono 85 le volte, gli studi dicono che 85 volte al giorno noi guardiamo il telefonino. Ok, quindi abbiamo accesso ai social dove ci sono notizie, no? Il più delle volte quando abbiamo accesso a questo telefonino, ai social, a queste notizie, quando abbiamo accesso abbiamo come risultato il fatto che ci roviniamo la giornata oppure ce la miglioriamo? Il più delle volte ce la roviniamo. Quindi a volte mi capita di ricevere delle mail di persone tutte arrabbiate contro di me perché io in questo periodo di forti preoccupazioni, di ansia, di stress, di paura, sto inviando una mail al giorno con uno spunto che è proprio, quindi sto regalando ogni giorno un contenuto che serve proprio per gestire al meglio lo stress, le preoccupazioni, le ansie e le paure del momento. Non ti sembra che c'è qualcosa che stona? Cioè tu guardi il telefonino 80 volte al giorno, sicuramente più di una volta al giorno e ti lamenti che un professionista mette a disposizione, tu a disposizione, una volta al giorno dei contenuti che ti servono proprio per gestire. Ma se è che non ti servono perché sei bravissimo a gestire questa situazione a differenza di milioni di persone che non ci riescono, ok basta ti cancelli oppure le metti da parte perché magari in un periodo in cui ti serviranno quelle cose ce le hai già. Quindi il fatto è che in questo momento una delle cose che possiamo fare è dare agli altri, essere generosi, essere altruisti perché nel momento in cui aiutiamo gli altri questo neurormone che si chiama ossitocina viene rilasciato nel nostro corpo e quando c'è ossitocina nel nostro corpo non ci sentiamo più coraggiosi, il nostro sistema immunitario viene favorito e vengono abbassati e ridotti i rischi dello stress continuativo e nocivo che molti di noi hanno, vengono rigenerate le cellule cardiache, cioè nel momento in cui tu dai amore verso qualcuno che può essere anche l'amore verso un amico, verso una persona sconosciuta, quello che sto facendo adesso prima di cenare, potrei stare benissimo a fare i fatti miei, quello che sto facendo adesso è amore, una forma di amore, quello che fanno tanti altri miei colleghi che stanno facendo di condividere, di cercare di dare degli spunti di ispirazione, fai la stessa cosa tu, impari qualcosa, quindi la seconda cosa era imparare qualcosa di nuovo ogni giorno, condividilo, cerca di darlo a qualcuno che magari in questo momento potrebbe averne bisogno, oppure cerca di sentire una persona giorni fa mi ha fatto piacerissimo questa persona che conosco, sì la conosco ma non benissimo che mi ha scritto ciao come stai? Volevo semplicemente sapere come stai, mi ha riempito di gioia e mi ha stupito perché ho detto vedi un po' a volte basta un messaggio, basta un messaggio e quel gesto ha fatto bene a me ma ha fatto bene anche a quella persona, quindi sfruttiamo questo momento non per cedere all'egoismo, all'isolamento e allo stress e le preoccupazioni di questo momento perché è troppo facile caderci ma è veramente da persone coraggiose, da persone in gamba come penso che sia anche tu che sei collegata, sei collegato in questo momento di fare la differenza, quindi avere amor proprio, se non sai da dove partire cerca ci sono tanti materiali gratuiti, ci sono corsi di formazione, videocorsi, c'è il mio libro, ci sono altri tanti libri, la seconda cosa è impara una cosa nuova ogni giorno, potenziati, laddove sai che potresti migliorare, migliorati, quando migliori aumenta la serotonina che fa migliorare anche il tuo amore, terza cosa, dai amore alle persone intorno a te e anche agli sconosciuti, cerca di fare qualcosa per aiutare gli altri, ovviamente con tutte le precauzioni che l'OMS e il ministero ci hanno dato, però trova il tuo varco di azione e a proposito di regali, se non hai ancora visto questi quattro video che regalo sulla gestione dello stress e dell'umore vai su felicementestressati.it che ancora per qualche giorno regalo appunto questi cinque video di 30, questi quattro video di 30 e poi se vuoi partecipare al corso appunto dove con me tre giorni impariamo queste cose, se non ci riusciamo il 24, 25, 26 aprile lo rimanderemo ma lo vogliamo fare, io un corso all'anno faccio dove condivido fuori dalle aziende in cui lavoro appunto quindi per tutti questi contenuti e il sito è www.intelligenzapositiva.com io ti auguro una buona serata e ci vediamo, condividi questo video perché sicuramente questi tre spunti possono servire ai tuoi amici e già questo può essere un atto di amore verso il prossimo, di generosità, altruismo verso gli altri perché magari queste cose qualcuno non ci ha mai pensato o se le dimenticate e grazie a te se le riesci a ricordare. Saluti ridenti!